Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi dei nuovi blush Mulac, Mulac è un'azienda che è nata, un annetto fa quasi, nata dalla Sindina, la Sindina penso la conoscete tutti, è una famosissima youtuber che tra poco avrà anche una piccola, quindi faccio tanti augure della Sindina sia per questa linea cosmetica che piano piano sta crescendo e per la piccola che arriverà tra qualche mese. Ritornando ai blush, allora sono 6 grammi di prodotto, il logo è stampato appunto sulla confezione e ben 12 misi da scadenza e 12,90€ al terzo, venditele giusti, dovete dire come stai di Google Play o anche se lo faccio in Facebook sulla loro parte, se lo faccio in Facebook. I colori che ho io sono lo 06A e lo 06A L. L'Udelia è un blush che gira quello viola, quindi anche l'altro, mentre io ho bisogno di te, è uno e il blush che ho fatto. È una cosa, qui c'è un'azienda di abbiamo, mentre Ariol e questa troppa si un'azienda un po' più attenzione, e i colori che succo inoltre, per loro. Per loro la finestra, per loro l'elemento dell'estrata, per loro, se è un'azienda di risposta, mentre Ariol e pesca si un'azienda di risposta. E' un esempio di una cosa stessa che mi fa molto troppo con te in un'area. Esistono sei tipi flash e tre di quali sono molto chiari, 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 e tre dei qualtri rotospori. Io, ovviamente, sono tutti infatti e in questo senso è anche meglio mettere quante evidenze. La strada intenzionale è un minimo senso. La strada intenzionale è un'area che non si tratta di poter trovare più con tutti i capelli. Siamo ancora di più si tratta di poter trovare l'area che è in quanto la macchina è in casa. E dentro di un esempio, produttivo e produttivo e produttivo. E' un altro duomo di macchina di microblastica. Vedete che da quest'ispetto è un altro delissimo. Io ho in realtà messo fruttissimo. Ho messo fruttissimo. in questo video e l'effetto è molto molto naturale a me piace questo effetto però se volete accentuarlo basta applicarlo un po' in più è tutto, spero che questo video vi sia stato aiuto, un bacione e alla prossima